L'articolo 2 della legge 24 del 2017 prevede che i difensori civici regionali siano nominati, possano essere nominati come garanti del diritto alla salute da parte dei singoli consigli regionali. E' questa la proposta del difensore civico regionale dell'Abruzzo Fabrizio Di Carlo lanciata a margine di un convegno tenutosi in Piemonte la scorsa settimana durante il quale si è discusso di abuso dei mezzi di contenzione nei luoghi di cura degli anziani. Ma quale funzioni potrebbe avere il garante della salute? Quello che potrebbe fare il difensore civico come garante del diritto alla salute potrebbero essergli anche conferiti dei poteri ispettivi ma in genere credo che potrebbe dare una grossa mano a tutto quanto il settore sanità che come sappiamo è un settore di grandissimo interesse per la collettività e per le regioni.